Buonasera a tutti e benvenuti a Civitella per il Meyer! Go! E' tornata la musica sotto le stelle nel borgo di Civitella. Tutto per il Meyer. Io bello sei! Civitella! Ormai un appuntamento fisso dell'estate a retina, tornato per il terzo anno consecutivo con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare all'ospedale pediatrico di Firenze. Si può donare sotto tante forme, è possibile aiutare l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze organizzando questi eventi, compartere le donazioni a noi oppure anche con i gadget solidali, le bomboniere solidali, donazioni spontanee. Si può scegliere di aiutare l'ospedale nelle sue prime necessità. Questo è il fondo generale dove poi è l'ospedale che decide dove vincolare le donazioni. Oppure, come è stato fatto in questo caso di Civitella per il Meyer, decidere il donatore dove destinare le donazioni a un nostro umano progetto che in questo caso è la ricerca scientifica. Ed è per noi un onore ci siano questi eventi così, una partecipazione così grande e questa preziosa solidarietà a sostegno del nostro ospedale. palco scenico naturale della serata a piazza Donald C. De Lazzari. Sono veramente contento come sindaco di vedere una piazza piena, tanti giovani, tante persone. Vedere ballare in questa piazza da 20 a 60 anni, 70 anni è veramente un bellissimo momento. È un paese che ha tante facce. Abbiamo avuto il 25 aprile, abbiamo avuto tanti eventi importanti e stasera abbiamo un evento per i giovani con finalità benefiche. Quindi grazie veramente a tutti coloro che hanno partecipato. Numerosi gli ospiti e DJ che hanno preso parte anche quest'anno all'appuntamento, tra loro Andy Bellotti direttamente da Tale e Quale Show. Grazie a tutti.